Terzo giorno della settimana in friggitrice ad aria e prepariamo le mie pizzette margherita. Partendo dal mio pasto pizza lievitato, formiamo le nostre pizzette su dei fogli per friggitrice ad aria di carta forno ben oriati. Più le fate fini e più verranno croccanti. Cuociamo 10 minuti con un filo d'olio e trascorso questo tempo rigiriamo la nostra pizzetta. La facciamo con salsa di pomodoro cotta e mozzarella, di nuovo in friggitrice ad aria ed eccole pronte. Che ve lo dico a fare, sono troppo buone! Grazie a tutti!